Questa sera il Mamiani ospita un concerto di musica, una musica un po' sperimentale, jazz barocca. La serata sta avendo molto successo, non ce l'aspettavamo, c'è tantissima gente, abbiamo cercato noi dell'organizzazione comunque di accogliere più gente possibile, ma appunto lo spazio è quello che è. Nonostante siamo uno dei licei più dotati di questa architettura molto ampia, però ovviamente la gente è tanta. Speriamo di soddisfare tutte le aspettative.